Nuova iniziativa del Rotary Club, obiettivo autosufficienza, una serata divulgativa realizzata in collaborazione con Fidas e Avis. Presenti Rotaract e l'Interact ad intervenire sul tema della serata, il direttore dell'UOC Medicina dell'ospedale Raimondi di San Cataldo, Raimondo Maira, il direttore dell'UOC Medicina Trasfusionale del Sant'Elia, Nunzio Marletta e ancora Carmelo Giardina, presidente Fidas e Gaetano Giambusto, presidente Avis. L'obiettivo che il Rotary si è posto con il progetto autosufficienza sangue è quello di raggiungere nel più breve tempo a Caltanissetta l'autosufficienza, cioè i nisseni devono fare un salto di qualità, soprattutto il loro senso civico deve fare un balzo in avanti e far aumentare la donazione volontaria del sangue affinché il fabbisogno della città e della provincia venga coperto dagli stessi nisseni e non si debba ricorrere alle importazioni del sangue. Stasera abbiamo riunito qui il direttore dell'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale dell'ospedale Sant'Elia, Marletta, i presidenti delle due associazioni di volontari del sangue, Avis e Fidas, Giambusto e Giardina, nonché altri esperti proprio per capire insieme come lavorare per raggiungere questo obiettivo, l'autosufficienza.